Come fare aloe vera gel. Aloe vera gel è uno dei grandi guaritori della natura. Può essere usato per trattare le scottature, idratare la pelle e lenire l'irritazione. Per fare il vostro proprio, tutto ciò che serve è una pianta di aloe sano. Aloe vera gel può essere miscelato con altri ingredienti per aiutare a preservare per più di un paio di giorni. Lavati le mani. È importante iniziare con le mani pulite e utilizzare attrezzi puliti per assicurarsi che il gel non venga contaminato. Tagliate fuori una foglia esterna di una pianta di aloe. Le foglie esterne sono più probabilità di essere maturo. Faranno contengono un sacco di gel fresco sano. Ricerca foglie intorno alla parte esterna della pianta, con basi cresce vicino al terreno. Usare un coltello affilato per fare un taglio netto vicino alla base. Dal momento che il gel di aloe vera e deperibile, è meglio non fare una partita enorme in una sola volta, a meno che non si ha intenzione di dare un po' via. Tagliare solo una foglia o due, soprattutto se sono di grandi dimensioni, dovrebbe essere sufficiente per fare uno due a uno tazza di gel. Se la pianta è giovane, prestare particolare attenzione a non tagliare troppo in una volta. Tagliare tutte le foglie esterne potrebbe danneggiare la pianta. Scolate la resina per 10 minuti. Mettere le foglie in posizione verticale in una tazza di lasciare che la resina di colore giallo scuro defluire. La resina contiene lattice, che può essere leggermente irritante per la pelle. E' meglio per drenare fuori in modo da non entrare nel vostro gel. Sbucciare le foglie. Utilizzare un pela patate per sbucciare accuratamente via la parte verte delle foglie. Assicuratevi di tagliare attraverso lo strato bianco interno al gel sotto. Staccare tutta la pelle in una volta al lato della ogni foglia, lasciando una mezza forma di canoa riempito di gel. Se si dispone di grandi foglie, può essere utile per tagliarle in piccoli pezzi prima di pelling. Eliminare la pelle, come si va in modo da non confondersi con il tuo gel. Scupi il gel con un cucchiaio. Il gel morbido chiaro è facilmente scopabile. Scupi fuori tutto in una ciotola pulita fino a quando non c'è più niente nel mezzo foglia. Si consideri la miscelazione il gel con un conservante naturale. Se si dispone di un sacco di gel e si vuole mantenere per un mese o due, mescolare in polvere 500 mg di vitamina C o 400 Ui di vitamina E per ognuno 4 di tazza di gel che avete. Mettere gli ingredienti in un frullatore e mescolate bene. Il gel sarà spumeggiante in un primo momento. Mettere il gel in un barattolo di vetro pulito sterilizzato. Se è stato utilizzato il preservativo, il gel si conserva per diversi mesi in frigorifero. Senza di essa, si conserva per una settimana o due. Utilizzare il gel. Applicarlo a scottature o altri minori, ustioni superficiali. Aloe può anche essere usato come una crema idratante pelle o ingrediente di prodotti corpo artigiannali. Non usare mai gel di aloe vera su tagli profondi o la pelle vesciche. Dovrebbe essere usato solo irritazione della pelle superficiale, perché impedisce tagli profondi di guarire correttamente. Prova miscelazione aloe 1-2 tazza con 1-4 tazza diffuso olio di cocco per fare una guarigione, lozione idratante massaggio. Scopri come far crescere una pianta di aloe in modo sarete in grado di fare una partita di gel ogni volta che vuoi.